Quanto metti tu? E' 50 euro? Un po' Io ho un punto alta Siamo almeno 4 di spada Siamo almeno 4 di spada Scusate ma non manca Prendeci lì Io vi ho detto che mi sentiamo la meno E' 4 di spada E' 4 di spada No mi rietta No mi rietta Ma io ne conchivo Che vuoi? Io ho messo le mie a tavola Io ho messo le mie a tavola Confusione c'è Allora signor Peppi è messo Poi mi chiede le mie 1,5,5 5,5 euro 8 euro 8 euro E' 4 euro E' 4 euro Non è 4 euro E' 4 euro Io E' 4 euro Io E' 5 euro 5 euro Aopa di letta 3 euro Io 5 euro 2 euro 2 euro 9 euro 9 euro 5 euro 5 euro 5 euro Almeno ce l'ho io. Almeno ce l'ho io. Non male che dà lì. A posto. No. A questo non lo vogliamo più. Tu le hai cambiato. Sì, le hai cambiato. Lei è riduceva bene, non si è scusato. Non si è scusato. Non si è scusato. E' un po' l'errore piccista ancora. No, tu la no. Mi chiedi il puntino. Mi sono feroce. 9 di marze. 9 di marze. 9 di marze. 9 di marze. 3 d'oro. 5 di marze. 5 di marze. 5 di marze. 6 di marze. 7 di marze. 6 di marze. Io amo. Brava. 4 di marze. 6 di marze. 6 di marze. 6 di marze. 6 di marze. 2 coppe, 9 coppe, asso spade, 3 coppe, 8 d'oro, re di bastone, 4 spade, 4 d'oro, 5 d'oro, 4 coppe, 2 d'oro, 3 di spade, 3 coppe vinst弟i 4 coppe, 3 coppe, 3 doro, 3 d'oro, 7 doro, Sì, è un rei. Sì, è un rei. Sì, è un rei. Sì, è un rei. Sì, è tutto. Sì, è un rei. Manno io pure il troppo.